Buongiorno a tutti, mi chiamo Ottavio Sgrosso, vi presento Angel Deal. Il problema che stiamo cercando di risolvere è un problema ben noto a investitori professionali, ovvero venture capital, acceleratori, angel investor, operatori di crowdfunding. Il problema è quello di raccogliere i dati relativi alle performance delle startup in cui questi investor hanno investito. Normalmente che cosa succede? Un investor per ciascuna startup in cui ha investito individua delle KPI, delle metriche e le inizia a monitorare. Il monitoraggio di queste KPI richiede un continuo aggiornamento con i founder, normalmente su base mensile o trimestrale. Il problema è che raccogliere questi dati non è una cosa così banale, spesso l'investor perde un sacco di tempo e invia diverse email per ricevere queste informazioni, questi dati aggiornati, stressando il founder e stressandosi lui. Ora, quello che noi proponiamo è di eliminare questo spreco di tempo, sia nella raccolta dei dati, sia nell'elaborazione degli stessi, perché questi dati poi vengono elaborati in grafici che vengono utilizzati sia a scopo strategico per prendere delle decisioni, sia per diffondere i risultati degli investimenti all'interno del gruppo di investitori. Noi eliminiamo lo spreco, come lo facciamo? Con una piattaforma che semplifica l'operazione di raccolta di dati e di produzione di report. Il nostro processo è automatico, in che senso? Io nel momento in cui individuo delle KPI, molte di questi dati li posso raccogliere in modo automatico utilizzando delle API di servizi esterni, dopo vi faccio vedere come. Il processo è consistente, nel senso che il modello di dati è unico, stesse unità e stessi formati, il che mi consente di aggregare i dati relativi alle varie startup e produrre dei report che sono dei report globali del mio intero portfolio startup. I dati sono centralizzati, tutti in un'unica piattaforma che è facilmente accessibile e posso avere su questa piattaforma livelli di accesso diverso in modo da poter invitare persone a visualizzare la singola startup o la singola metrica. Come funziona? Io ho delle startup in portfolio e magari ho anche dei prospect, sono un investor, mi registro a Angel Deal, invito una startup, questa accetta, seleziono le KPI che voglio tracciare. La startup, una volta selezionata la KPI, verrà a sapere quali sono le integrazioni disponibili per quella determinata startup, per esempio voglio monitorare gli accessi unici al mio sito web o all'applicazione, le integrazioni disponibili per esempio saranno Google Analytics e Mixpanel, voglio tracciare le revenues, avrò Stripe per esempio. In questo modo l'investo non deve stressare il founder perché questi dati vengono raccolti in maniera automatica, sono sempre aggiornati. Una volta raccolti questi dati li posso elaborare, posso produrre dei report, dei grafici che posso condividere all'interno del mio gruppo e li posso utilizzare per fare decision making. Posso anche combinare all'interno del grafico più metriche, quindi posso mettere revenues insieme ai costi per esempio. Il mercato su cui siamo focalizzati ora è il mercato degli investitori professionali, sicuramente un mercato di nicchia ma in grossa espansione, inoltre non è l'unico mercato possibile, dopo se abbiamo tempo con le domande magari affrontiamo qualche altra cosa, perché il progetto può svilupparsi anche su altri mercati. Su questa slide non mi dilungo, il modello è un classico SAS che prevede come revenue model una subscription fee per l'utilizzo del software. Il competitor che abbiamo individuato sono quattro su scala globale, due sono diretti e sono randit e visible, stiamo parlando in tutti i casi di società molto piccole, meno di due milioni di fatturato, team di 4-5 persone e a nostro avviso le soluzioni che queste persone hanno sviluppato sono ampiamente migliorabili, sia da un punto di vista di UX, sia da un punto di vista di automazione, della raccolta dei dati. Il team è composto da me che mi occupo di business development e da Francesco che si occupa di software development, entrambi abbiamo diversi anni di esperienza nel disegno, sviluppo e lancio di prodotti digitali. Abbiamo lavorato insieme per tre anni in Push Up, che è un app studio basato a Napoli. Attualmente stiamo sviluppando la seconda versione della beta e potete visitarci su angeldeal.co se siete interessati a lasciare riferimenti, verrete contattati appena sarà disponibile per fine mese. Grazie. Grazie. Grazie.